Buon saluto a tutti amatamente, questo è un vago diverso da questi ratteri. Questo è un buon scherzo che va a dare su due anni di Sant'Andrea, su due anni che vestiamo, su uno vestiamo il santo, su due vestiamo il nord. E poi dopo un buon conto, un salmento di vicinia di questo vestito, in attenzione facciamo questa vestita, su due anni si facciamo grandi vestiti, perché non si facciano i sądromo, perché questi rustic sostengono queste questi riman justement da zuzera. Si facciano un sorcetone bipartisano, 그림i s Fathernic настоящano, si facciano una barchetta rusta, se facciano il caffèою... Tutti i frutti che valevano sul fruttuario che appiccavano i suoi ostri. Se appiccavano i suoi ostri, la uova, la vira, la melanchidonza, la melanchidonza, la melanchidonza, e si vede una banca apparezzata a festa. E si mancavano la nuca, la mentola, tutto la carica, tutto il corso di attunzio da frutti buoni e saporiti. Su zero ha poi questa ghena. Se la saia di questa banca è apparezzata, che in tutto il piatto spreno, di vetta, di macarrone, di sorcizzone, di vetta, e di vetta, di vetta, di vetta, che è un sorvezzo. E stanotte bene, in sas'anima del sosparente nostro, a che nare. E in sottizio era una anima attarta, abbondante, abbondante, abbondante. Quindi, i bossonetti dunque, che sta avendo a festare. Però, un po' scherzo, è un sorvezzo. Su' notte si caldea da dormire drotta tardo, compreso i suoi vizinhos. Tutti inghiriados i satsimineasi, ma i affritti. E contavano i suoi contados. Contados dei gusti dei suoi morti, o non morti, o morti nostri, o morti di carrella, o morti di parenti. In gai si contavano tantissime storie. Una dei gusti, ho lasciato contare io pure. Io mi ammento una orta. Sono una mamma mia, mamma orto, con la mamma e mamma, con te i gusti di bere un cao, sul lupo. costumine. Diventevi, ma non furrebbe. A cominciare a furare a seguito di sette anni. Pili niedo, o griniedo, bestia di niedo infreso, e sempre che sargi buzo, e salipuzza patatella in buzacca. Si candete da e badde movinoso, a Sudirina e Bono vicino a suo camposanto, comporete, a Sudirina si battete una doma, una grande dominario, un grande dominario, fatto a preda, a draiga, copertura, tessi da canna e rio, e cozzata in teola della sola russa, tanto sulla russa per di su, quello che sa teola. Costumine furende, 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 che siada verso il Tireddo, di Esia, furare traila, sporco, bacca, stuibibili. Cando a nea da Santa Marta, che valeva fino a San Nuoro, che in questo cazzo, non cazzo che vive una meraviglia, un brucio, ma coraggioso. Brincai a muri e crisuri, a zagas, andate a furare tutti e pari ad una fantasma mala, su morte, passende, cosa stanca, a traesende rios e trainos. però, un dia, quando veniva da sedare di una chiamantina di anni, veniva tutto, pensate, questi uomini, veniva tutto, finché i suoi animali, aveva pagato i miei amici, e aveva pagato i miei amici, aveva pagato i miei amici, aveva pagato i miei amici. E si rispetteva solo una cosa, subito i miei amici. Questo non lo rispetteva, lo tratteva bene e lo rispetteva. manichagliata affitta in leppa, le hai a sapetta, su le puzzi, manichelle sempre rizzi, funghia sabbicolo e se le muñate in bocca, sempre affitta in leppa. Non mi ne è malo, malo è che gli attimi davvero. Però non ho tenuto dire bene di questo momento solo. Intendete, vicino a esse, se amattessi leata, beviri a distanza di chi non hai trovato da Saddamo di uno zir, zir tu bainzeddu, che sa muggere beviene in questa Domenichetta. Su notte, questa notte, i fidi su di e son mortos. Intendete questo fragrasso, questo bordello, questo lottare, fadde anche questo bordello, questo bordello di guerra di uomines, di addobbare trastos e così via. Questo s'atterrebinato, e attragentato, si spaventato, si che gorgheni, si che gorgheni, si che gorgheni. Su mantotto su notte continui questo fragrasso. Su manzano da esarbattos, però finì tutto. Mudezza di Dumba, perché non si intende più né animali né cristiani. si indesiedi, zio bainzeddu, e correvi a questa caserma della guardia reale. E contei tutto su va. Nei abbia dato il successo con la russa, che in domo di solupo va a guerra questa notte. Si intendiano il suo corpo, il suo surro. lo so. E i carabinieri, i andeni, fatti a esse, accompagnano su loro. Sì, accompagnano su loro, fuori a Idda, vicino al suo apposato. E in treno a Sadoma, fin tutto segato, tutto urtulato, cadere, banca, a Isco, spiatteras, tutta terra e tutto chimentato. vai ad un movimento, per a che vabbè entrato e saite. Secondo è la strada di Susanna, il suo maresciallo che intredi direttamente al suo apposato, quando si intredi il secondo è la strada la seconda di Anna del suo apposato. Intredi ad entro. Quando intredi ad entro si spaventava fino a questo maresciallo. Un certo maresciallo manca di buddusò. Fì tutto distrutto su quanto tanto vuoi. Tumbas, loggias, marmaros segatos, rughe sbortuladas, ciparissos che sannai segatos su cipressos o come ciparissos lì, sai? E questo caminata ancora se in desastratta segatevi a Bore Urcai sul lupo, come interlocrammai in tutto, che indò una rughe verru che raitava in petorras e che le sia addirittura in Sischina. In Sussamba in Barea che vanno a morto che in Tanzones in questa cosa, su maresciallo timedi e nedi. ma costano questa guerra dei cristiani costano vivere una guerra ai demoni e il zio va in Zeddu ha il ragione su maresciallo ha il ragione che gli ha fatto un nuovo atto con il suo demonio morto e oggi che lo devi alleare e gli si ha aggherrato uno che chiede andare ed il suo demonio l'ha morto. Dunque c'è finito che non scontano. e ha proseguito la poesia scritta in questo modo è una buona legge una di queste si state attenti a questo nuovo è una assomiglia con teoria di questa morte. Poi l'ultima ottava il test è veramente tutta questa cosa si sveglia a Sarcano uno d'occhio e campana grai lento intendo e so scrivendo un libro di questo pare di niente che a mia esetta ha avorsuto ravvaso il suo ultimo momento sorrorosa figura che si apposenta intendo e che si aspera la schietta con fai di solenne frimmo e forte niente se sfronto è ososa morte. La carena tremenda arpilata con il suo vago almeno che mervexito lì naro forse sei sbagliata anche il barante è un po' comprato sicuro che sei a mia ambasciata che guarda guarda e mi risponde questa morte. Isca che mai sbaglio che ho fatto è sempre precisa e puntuale in ogni luogo un misito viagato che a me non viene uguale. E ti ne lo giuro è il combattuto che mai un'ambassata andava er male. Pensa, fin da suddizio, ma ragazzi, solo questa morte non si va di mai. Permetti, ma non sia già impressata. Con rispetto ma ti chiedo a mentare, con un cantorbezzo sin carrella a bada, si chiede si potesse pure separare. E penso io e tu è accontentata e non va nulla di contierare. Ora suddizio antico e su su, che buona ezza fa che me ne sobrò. Torre a s'amore. non torre sempre a sabedra viccada, non muore e non cambia dintino. Sa vides che i zabba e su molino non venis due arporta si spalata. Dunca sprodestes a missa cantata, con sorvezzo diverso al suo destino. Nara suddizio antico sardu dende brù che un si vesta esprosso santo giù. Certo, non ha podotto sareo, ma su ne si divide a me sa pare. con gentilezza con gentilezza di che erzo a mentare che devo fare questa confessione. Però mi pote spentire e rattristare. Di suo peccato è mala intenzione. l'ara suddizio antico a mente l'asa sui non potesò e ma ne scrasa. Chi sta sicuro da gatto su zassu se non s'ese pulito e meritorio? Si appena se in suveso se si scasso su resto i scontaggi su purgatorio. Inutile la guerra e il fracasso. Non risponde nessuno al saggiuttorio. Dunque non è scauso su rigore su un'escusa al demano pagatore. Io cominciai da timire. A vero come io no potevi dire questo non è suo momento adatto. a questa banca potevi obbedire dinari provenire sull'atto. Tu hai mentre di me lascio che non pagano il grave sull'atto. Il debito sono chiesti peccati. Prima di me morris che erano pagati. Queste cose non si sono ligate. Sono cose terreni, cose vani. Tutto che hai argomentato sono bassi di miseria umana. Non ti lesere frega e ne matanese. Chi su debito viene tornato. di antico e da consigli che pagano il figlio e su lutto è danno. Su battere il figlio su tutto minore su man mi è dolore figlio e affanno. Tu vuoi seguire bene imparare mia in ped anzina larga e scorre. canta cosa mi sese imbolicente provare da esa tua ragione come gli danza e pensione. non ti do perdono e permesso su chi non fa che su granito tu sei messa d'orza in tu l'anzena su goro di astra u che è affritto e airata che è una iena su momentosi amale e conosca da malgura e ogni pena narra suddizio non faccio coraggio ma non amo né odio né perdono di tutta amica e a nessun estimo solo su ultima ora tutto giorno ma non rocco mai ne frastimo sa vera u agli ansia bosco corono narra suddizio antico giusto e buono torra il rocco sempre suo padrone ma è torrado e no che la morte è due serra ed è solo i mortali morrendo non che si può essere da di mente e scusa se si 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 proposta lasciami in vita uno mese ancora un d'ora si 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 Dizzo prese arre negoso dev'agene nascere sui scattenti occegos. Pro nessuno abbaidate questa morte, cantermane, Pro nessun motivo mi arreo, su tempus dato indotto e l'ha finito. Chier fa' o non chier fa' stickeleo prima di appasa sole e no uido. Canto che erzo te forza' apo e l'impreo, ischia nieno mai mi er fuìo. Una vita t'ha dato saltacorte però compenso li deve su una morte. Mi via prepparende a lento a lento. Canto una mano in pala smattoccato, mi so' girato che in fuoco dentro e tutto in duna mi so' schifato. E canta con tentesa in suo momento mancare tre mulende su e rado. A vera vero pariamo orzende, manco male che vi asso niente. In cui sta badde mulino su baiatone remitano. Un uomine arto, pilo allongosi. Più bene da questa zona non rischiano manco quando più bene. Un uomine egrezia o solo un uomine devoto. Se ne troviamo un serenitano, andate in giro, un'altra pallaia pregaia, andate in una grotta, una conchetta, andate in una Bibbia, un uomine e un'altra pallaia. E se il manzano chitto partì da questo erenitano, partì da questa fontana, potessero tirare la brocchia sabato da tutti gli uomini e gli uomini e gli uomini. I miei ci siamo neanche a sospese i sarmamenti e pregaia di un prenuquato. Poi va chiedendo un uomine su un zio senza disturbare me, direi a tutte queste vintine e famiglie che vivono in questa zona. Non chiediamo mai nulla, però le famiglie ci diano tutto. Ci diano pane, i vestimenti, quando abbiamo morito a qualcuno si può avvenire la siega, c'è un zanchetto, il vino, 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 il vino. Un'altra zia sabato, l'esplorato fino al suo sabato. Una notte, in tennini, su pane e su atto, urlato su pane e su atto, pranchato, miaulato, c'erano un atto di un sofferenza. L'hanno inteso in tutta questa alleata, tutta questa baggemolino, la famiglia, hanno inteso questa cosa, ma che mai te badappi di noi. Su Manzano, sia Salvatore Anza, la mandati a Leonardo, su un'epoca e abbaitare i tipi successi a tutti. Arrivento ai miei, cominciai ad alleare questo frago e roba bruciata. Leonardo. Poi, ah, allegrei su basso, a passo più allegro, intrati la grotta e vedi una cosa horrorosa. Sommine le hanno morto a colpistare la conta. Giugia Savonca mi spaccava. Su atto vi disette da una parte, i sugani assatera. Giugia sospetti burgiati, che avessi morto, e si sia dispostati e che ha posto sospetti il suo buco. L'ordoglio nello spaventano due piccoli di carbone. Leonardo si dà fuori a boche manna, a frusche e a boche, a viseri che hanno morto serenitano. Questa gente vorrei tutto, che questo uomo non abbia fatto male mai a nessuno. E' il povero, peduliano, che avevano questa cosa e con il suo bagno, che avevano da sempre passare a qualcuno in questa grotta più poverissima. Quindi questa gente scurta tutto, a questa grotta è di serenitano. Chi ha questo barbaro coraggio di occhire un uomine che hai? Un anzaone. A rivena ai miei, e tutti i denti scena. Mandei sempre a Leonardo, a foresta a Burgos, a cramare l'arma, l'arma reale. Sono parlato sui carabinieri. Preguntando se hai avuto qualcuno su notte? No. L'hanno andato, abbiamo sentito solo, sui cani urulari, sui cani a miau, a lungo, se continuavano. Però non abbiamo pensato altro, abbiamo pensato magari su un calore, su un crequente amore di questi animali. Ma non fai capire questa cosa. Comunque, dunque, sui uomini, facendo il suo verbale, tutto quanto, scrivendo tutto, la guardia reale, se chiedi, al suo camposanto, da Bonorva, che chiedi, serrati di Mato Stauro, sui costumi, proprio come diceva, in una cassa. Noi scrivono nulla di costumi, che fai idea su campi danese, su cadorese, su locutorese, su campi danese, e noi scrivono i tempi buoni, e noi scrivono solo, perché questo è un'area che hanno chiamato i due anni, le cante le narra di Lele, due anni e le le le. E il suo domino mi scrivono solo, due anni e le le le, e tutti i due sono morti. Ma non è andato, questa gente non è andato a nulla di costumi. aveva arrivato attristato e avevano soffritto tutto questa morte costumica. Ma a questi 30 giorni di terra, Torrena intende su notte, sugane, urlente e veniva da questa zona. Ma come c'è da questa conchetta, da questa brutta lillì? Intende sugane su atto. Torrente a urlare, torrente a miaulare a lungo. E fanno su manzano, su mandato, su due, su tre, ai miei. E non agattene nulla, sugane non beviva, su atto non beviva. Però a un certo punto, dopo un uvaio e ora, nel Valenzo, il scarabiniero è accaduto, il guardia reale è accaduto, e questo maresciallo riunerebbe tutta la famiglia Ardegueni. Questa notte aveva inteso qualcuno? No, aveva solo inteso. su un uvaio e il suo atto, che non sparì a delle leggi, ma non si è tornato a vivere da giudicano mortali. Una volta interrato sono spariti. E i sugane urlenti puri, abbiamo sentito. Ah, di sentito sugane urlare il suo atto. E ci hanno parlato una cosa. Chi lo sa veramente attraventato, spaventato, tutte le persone sanno, è fin dente che gli viampi il suo cuore, eh? di sannato. E stanotte hanno morto un uvaio, un zambenario e chercato dai tempi per me, da spinta staglionato. E questo è una cosa strana, che l'hanno accattato chi pare di scannato da un uvaio, e poi frascato in ogro, che l'abogato sull'altro pare di raffiar di un atto questa cosa. E questa gente ha compreso tutto. Sugane e il suo atto di serenità. Sì, vi è vendicato. E hanno morto. Su bandido, su benario, hanno ammortizzato il corpo e il strano. Duncas, amico, meditare, meditare oggi. costo fin sui conti che avevamo noi. Però un po' scherzo è un arre spuro. Se voi voi samentate, che è stata mia, che è una vaga un'annata, sui pezzi, sui dieduti, sui dieduti, sui morti, andavano qui in esas corcurigas. L'ha spinta irenaivano. Lì avevamo saucca, sui sogro, sui bonetti, ventilinati, che uniamo una candela entro. Poi, con un cordonito, la picchiamo a sottruga e andavamo a scherzo questa cosa in giro. Uno a fare questa corcurigas, ventilinata, di San Lugazzesco, un altro iniziato, con una Bertoletta, o con un sacchetto, finché, con una, est del capitale, noa, o ben esamunata, e si vedeva si smorti smorti dai morti in morto e si narraia da sempre car chi goza, prossas animas, e ripetivano sempre questo affare, anima attatta a nada abundante e si tratta di carica, nuca, mendulas, papassinos, tilicas, che si tratta di un papassino e si tratta di un papassino e si tratta di un morto. e questa cosa, come questa? L'uomo, questa? L'uomo è quasi un po' niente di strano che in questo paese l'ha fatta ancora ma io vi manco una vita e non dico se c'è qualcuno di questo eoisi dai sui paese minare amici sul paese nostro l'uva chiuso vedo che non si tratta abbaitare su chi, fa che erano un zio che io non dà più duvrus i nocchi intattari ormai non dà più sui secoli inocchi e non che le vaghe inocchi però so pensate in zona nostra in certas parti della Sardegna che si tratta ancora questi morti e morti che andano in giro questo e in questa cosa. Amico, vi ringrazio la sua compagnia che mi ha fatto siamo finiti adesso a voi andiamo a salutare a tutti quanti a mani e a minori a tutti i vicini e a tutti i lontani pure buona festa come adesso santo e adesso il morto manigate tlicca papassino e se lo dite se lo dite sull'antica lasciate su un vacuo e maccarroni poi su un'ottima e le anima adesso e i nostri ammangare voi su manzana magari la cattate su viattimi e su boi non si spaventate sono un anima buona e state bene adios e tenete buon sanos